buona domenica a tutti e come ogni domenica anche stasera sfoglieremo i giornali della settimana e lo faremo in compagnia dell'avvocato Luca Cordero di Montezemolo benvenuto in altre parole dopo la pubblicità grazie vincere alla lotteria o ereditare una fortuna chi è che non l'ha mai sognato almeno una volta nella vita ebbene per Marlene 32 anni ultimo rampollo di una prestigiosa dinastia imprenditoriale austriaca questo sogno è diventato realtà quando alla morte della nonna ultra noventenne si è ritrovata tra le mani un patrimonio di quasi 30 milioni di euro che cosa ne avreste fatto voi con Marlene che da anni si batte perché i governi del mondo tassino di più i ricchi come lei non ha avuto dubbi ha detto ho ereditato una fortuna senza aver fatto nulla per meritarmi ne ha deciso di donare il 90 per cento dell'eredità a chi ne ha più bisogno non si è arrogata neanche il diritto di scegliere lei destinataria farlo sarà un buon consiglio così lo ha battezzato di 50 persone comuni selezionate sulla base di un questionario in altre parole anzi in soldoni permettetemi il gioco di parole Marlene ha deciso di ridistribuire democraticamente la propria ricchezza ed è quello che forse dovrebbe fare lo stato o meno uno stato che avesse a cuore la propria sopravvivenza perché una comunità è come una persona rimane in piedi fin quando sta in equilibrio ma in una comunità dove i ricchi sono sempre di meno e sempre più ricchi e i poveri sempre di più e sempre più poveri prima o poi l'equilibrio si spezza e a rimetterci saranno tutti ricchi e poveri buonasera avvocato Montezione benvenuto questa scelta di Marlen che ha colpito molto ma assume ancora più valore e rilievo alla luce anche di dati che riguardano l'Italia le avrà letti anche lei un quarto della ricchezza italiana è in mano all'uno per cento della popolazione che io chiedo il mondo dell'imprenditoria cosa può fare per ridurre questa forbice che tra l'altro si ripercuote anche sui consumi e quindi sulle stesse aziende perché aumentano i poveri aumentano anche diminuiscono anche il numero dei consumatori che possono tenere in piedi tutta la baracca le imprese cosa possono fare intanto le imprese generano ricchezza perché la ricchezza non te la porta o la crescita un uccello dal cielo ma le aziende che vogliono io credo che possono fare fondamentalmente due cose uno quello di considerare i propri collaboratori come una parte fondamentale dell'azienda cioè un imprenditore anche il più bravo imprenditore del mondo non può far niente senza le donne e gli uomini che lavorano con lui nell'azienda punto uno diciamo che in tempi di intelligenza artificiale questa sua affermazione ecco sì questo è vero ho detto questo in un momento in cui però per me è stato fondamentale io devo dire la verità una delle più grandi soddisfazioni della mia vita le ho avute quando il financial times fece una grande analisi di mercato tra tutte le aziende italiane e la ferrari di quello ero presidente amministratore legato i collaboratori della ferrari risultarono i primi in in europa come felicità nel lavoro e come diciamo orgoglio di far parte di un'azienda quindi primo considerare i propri collaboratori e proprie collaboratrici coinvolgendoli coinvolgendoli nei successi nella crescita dell'impresa e motivandoli su questo questo vuol dire poi alla fine della fiera mettere più soldi in tasca a chi lavora che è importante e la seconda cosa quello di cercare di guardare sempre avanti per essere competitivi quindi reinvestire il più possibile nella propria azienda e questo è perché oggi tecnologia ricerca sviluppo internazionalizzazione fondamentale quindi io sono sempre stato favorevole a dire l'imprenditore che invece di guadagna 100 e si mette 100 in tasca se se ne mette meno e il resto lo investe sarebbe una cosa da detassare anche perché tra l'altro lei diceva dobbiamo investire in ricerca siamo un paese invece molto in difficoltà pensiamo un settore a lei molto caro in cui ha impiegato un lungo periodo della sua vita l'automobile ora noi siamo il paese europeo con il maggior numero di auto per abitanti ma ne produciamo molto meno di germania spagna spagna e francia come mai io sono molto preoccupato della ormai inesorabile deindustrializzazione del paese l'italia insieme al turismo è sempre stata e mi auguro lo sarà una azienda manifatturiera in cui la fabbrica importante il prodotto importante l'export è importante oggi noi non abbiamo più un'azienda automobilistica in italia poi chi venduto non venduto la verità è che tutte le decisioni di che riguardano il mercato italiano e sono presa a parigi siamo arrivati addirittura ad una cosa secondo me che tra l'assurdo e l'umiliante cioè che una macchina come la 600 un'icona dell'italia insieme alla 500 viene prodotta in polonia malgrado tutti gli stabilimenti secondo me è un fatto inesorabile o legato anche se fosse stato ancora marconne sarebbe successo questa cosa secondo me non credo sinceramente non credo non lo posso dire ma non credo però rimane rimane un fatto rimane un fatto vedere una 600 produrla in in polonia quando tutti gli stabilimenti ex fiat sono in cassa integrazione è una cosa che non mi fa bene ecco su questo tema è intervenuto anche la presidente del consiglio giorgia meloni guardiamo noi vogliamo come sempre difendere l'interesse nazionale vogliamo cioè tornare a produrre in italia almeno un milione di veicoli l'anno con chi vuole investire davvero sulla storica eccellenza italiana e questo significa anche che se si vuole vendere un'auto sul mercato mondiale pubblicizzandola come gioiello italiano beh allora quell'auto deve essere prodotta in italia ha ragione per me assolutamente ragione ha ragione in più io posso dire che noi eravamo dopo insieme a germania e forse meglio della francia il paese che produceva le più belle automobili del mondo perché non questo lo dobbiamo dire e oggi se è così calata la produzione da quando entrata in campo stellanti facciamo almeno in modo che delle aziende automobilistiche stranere vengano a produrre in italia dove c'è i migliori fornitori d'europa dove c'è dove ci sono stabilimenti la spagna ha attratto aziende automobilistiche sono andate a produrre in spagna anche se si pone minuto anche su questo non si dice che potrebbero invece essere addirittura anche andare importare in marocco letto queste questa è una cosa veramente grave perché molti fornitori italiani mi hanno detto di aver ricevuto una lettera in cui si si promuoveva in marocco in termini di investimenti in termini di tasse eccetera andate a produrre in marocco è una brutta cosa però vede io credo che in questo momento la cosa importante sia di rendersi conto che non ha senso avere stabilimenti fornitori così di qualità così validi che rischiano di essere in grande difficoltà l'intervento della meloni era legato a una polemica della settimana come lei sa che investe anche la stampa quello che volevo chiedere lei è stato presidente di confindustria presidente della fiat oltre che della ferrari e c'è sempre stato questo rapporto fra il potere politico e le famiglie che controllano in qualche modo i grandi giornali quindi tra editoria e governo questo brazzo di ferro onestamente sì cioè le quante telefonate ha ricevuto no ma guardi onestamente sì di protesta sì onestamente sì lei lavorava alla stampa sì io credo che una delle cose che mi ha fatto più piacere sia quando ero presidente della fiat c'era la stampa Giulio Anselmi il direttore sia al solo 24 ore quando c'era Ferruccio De Bortoli entrambi uscendo hanno dichiarato che non avevano mai ricevuto da me nemmeno una telefonata entrambi ed erano due giornalisti serie mentre lei dai politici ne diceva immagino di lamenti di proteste molte ma l'importante quella è la tecnica in quei casi è la tecnica allora la tecnica dare la colpa al direttore cioè il direttore ha fatto lui non c'entra io e il direttore a sua volta dice peccato quel giorno non ero in redazione finché la colpa rimane però dobbiamo dire sì io mi ricordo di te poi c'era tutto questo discorso del conflitto di interessi che coinvolgeva Berlusconi e le televisioni il direttore, gli editori puri e gli editori impuri è una storia vecchia però devo anche dire con sincerità quindi è una storia vecchia e che si ripete che quando un presidente del consiglio cerco sempre di mettermi un po' nelle panni degli altri legge un titolo che c'è scritto l'Italia in vendita solo perché secondo me giustamente devo dire era un titolo diciamo di repubblico pochi giorni fa l'Italia in vendita relativa alla cessione di una percentuale dell'Eni secondo me è ottima perché se tu di un'azienda invece del 100% hai il 95, il 93, il 97 però puoi incassare del denaro in momenti come questi io la trovo benissimo senza logicamente perdere il controllo fatto da un giornale che diciamo è posseduto da chi praticamente insomma ha venduto gran parte dei cespiti industriali italiani a cominciare da un'azienda così importante come la Marelli che è un'azienda dell'elettronica a proposito di intelligenza artificiale l'elettronica oggi non è solo per l'automobile ecco io mi metto nei panni di un presidente del consiglio dice l'Italia in vendita ma da che pulpito viene la predica quindi è una cosa le piace la Meloni questo primo anno di governo la sorpresa la stupita guardi a me ha stupito in bene o in male come? dico in bene o in male guardi allora premesso che io non conoscevo la Meloni non ne avevo mai considero mi ha stupito sotto l'aspetto positivamente la chiarezza e il coraggio istituzionale e anche a livello internazionale sia per quanto riguarda la Kiev sia per quanto riguarda il rapporto con gli Stati Uniti io l'ho trovata coraggiosa seria e forse non tutti se lo sarebbero aspettato però mi permette lei aveva cognato una frase che poi hanno usato tutti fare squadra e nel suo caso la squadra diciamo ecco se devo guardare alla Meloni come allenatrice di una squadra la squadra mi sembra abbastanza modesta nel suo genere non è una squadra da vincere lei vale Todd diciamo ma non ci sono Schumacher esatto più o meno poi parleremo anche della Ferrari prima volevo chiedere di Berlusconi sono 30 anni dalla famosa discesa in campo le manca? Allora nella vita come nello sport ci sono i grandi campioni e sono tanti e i fuori classe per me Berlusconi sempre nel bene e nel male attenzione è stato un fuori classe è stato una persona assolutamente fuori dalla media per certi aspetti coraggiosi può essere appunto fare bene i propri interessi lasciamo stare però è stato un fuori classe di Berlusconi mi sono piaciute due cose sempre a livello personale una era una persona generosa a me non mi piacciono le persone tirchie di animo non tirchie tirchie di animo e due era una persona che ha saputo per molti aspetti interpretare la passione degli italiani in più considero Berlusconi una persona che ha saputo in molti momenti in molti momenti anche evidenziare delle persone della società civile non solo dei politici professionisti per il resto poi ognuno può giudicare come vuole certamente ha un aneddoto io ne avrei tanti di aneddoti che non sia quello che lo conosciutissimo che lui le propose di fare il ministro lo conosciamo però ha un aneddoto proprio vostro però mi propose di fare il ministro senza che io lo sapessi ma questo pretende anche troppo lui una volta una volta mi disse di una di una persona a me sentimentalmente legata mi disse che la dovevo ringraziare perché lui dice sai mi trovavo in quelle stanze del San Raffaele grigie stavo male buie e poi vedevo invece un canale televisivo e questa persona mi metteva di buon umore la devi ringraziare la devi chiamare la devi ringraziare non diciamo il nome ma insomma non lo diciamo qualcuno lo hanno già tutti capito ma tutto questo lo diceva a che età Berlusconi stiamo parlando di quando lui ha avuto il covid quindi era già un signore di 85 anni e che diciamo poi lasciamo stare tutte le cose però è un aneddoto che racconta bene però però sì per finire su Berlusconi in ogni caso comunque lo giudichi è una persona che manca nel panorama italiano di oggi dove forse avremmo bisogno di un po' più di persone coraggiose chi c'è di leader politici di oggi? Meloni l'ha detto prima Elislein Conte c'è qualcuno che per me la più grande delusione è la sinistra italiana vede io credo che in Italia si sta facendo ormai da un po' di tempo una sorta di disinformazione di massa cioè una volta ogni giorno si trova qualche elemento qualche storia qualche fatto che però distoglie l'attenzione da quelli che sono i veri problemi del paese i problemi del paese sono altri però lei è un uomo di comunicazione sa bene che parlare di storie personali di facce di nomi è più attraente per il pubblico che di grandi temi anche un po' angoscianti cioè rendere comunicativamente possibile parlare di industria di privatizzazione è più difficile che non parlare delle baruffe fra la premiera e l'ex marito sì però io credo anche che io oggi sento veramente il bisogno come cittadino di serie e tanche nella comunità di dire questo paese ha dei problemi veri il mio sogno sarebbe individuare cinque priorità non dieci cinque fondamentali priorità una tra le più importanti è la sanità due il costo della vita a proposito di disuguaglianze in cui destra sinistra avere una sanità che funzioni di destra o di sinistra si mettano d'accordo le persone più responsabili di entrambi gli schieramenti si mettano d'accordo per cercare di focalizzare e risolvere quelle che sono le priorità delle persone vedo oggi litigiosità su tutto e su tutto vedo oggi l'attenzione su quelli che non sono i veri problemi vedo in altre parole un paese che sta perdendo passione fiducia e per certi aspetti entusiasmo per il futuro e questo non mi piace è così allora apriamo una bella pagina poche ore fa Yannick Sinner ha vinto l'Australian Open primo italiano nella storia l'Italia sta impazzendo per questo ragazzo sui siti numeri vengono raggiunti incredibili ci sono persone che non hanno neanche come si tiene in mano le racchette da tennis che parlano di Sinner cioè è diventato un fenomeno secondo lei perché ha preso così? a me Sinner piace molto piace e mi ricorda uno dei più grandi amici della mia vita che è stato Niki Lauda e anche Gustavo Töni oddio erano tutti italiani per quanto di erano al limite Niki era austriaco gli altri erano al limite dell'italianità cosa vuol dire questo? un ragazzo serio determinato oggi nello sport per vincere devi avere la testa devi avere la testa concentrato che si è saputo migliorare giorno per giorno e quindi credo che piaccia agli italiani questo ragazzo giovane questo ragazzo che spero non è ancora contaminato con tutto lo show business concentrato che ha saputo giorno per giorno giorno per giorno migliorarsi così come hanno fatto altri campioni lavorando di testa quindi io sono molto molto contento e capisco è una bella immagine di una bella Italia ecco rimaniamo nello sport 20 anni fa ultimo mondiale vinto da Schumacher poi c'è stata ancora la vittoria di Ackinen e poi più niente in Ferrari ma è vero che la fermano ancora per strada dando la colpa a lei del fatto che pensando che lei sia ancora capo della Ferrari non vincete più questa è l'occasione per dire che non è più presidente della Ferrari purtroppo devo dire così perché il mio cuore è sempre lì per me io di nuovo uno dei giorni più belli fu quando l'ultimo giorno con tutti i collaboratori della Ferrari c'era una canzone del mio grande amico Gino Paoli che si chiamava Una lunga storia d'amore e eravamo tutti commossi ero a Napoli quest'estate città che mi piace molto ero a Napoli passeggiavo un signore si avvicina e fa che stai a fare ma vai a lavorare state facendo la figura dei cioccolatai devi andare perché pensava che invece di stare a Maranello lavorare andavo in giro per Napoli guarda che è sette anni io non ci sto più ma l'eclerca pilota della Ferrari ha appena rinnovato il contratto è un atto di fede diciamo è un atto di speranza l'importante è dargli la macchina per vincere speriamo che sia la volta buona perché sa la cosa che mi dispiace di questi ultimi dieci o undici non mi ricordo anni che non solo la Ferrari non ha mai vinto un mondiale ma non è mai arrivata nemmeno all'ultima gara in condizioni di vincere io se penso alle gare che abbiamo ai mondiali all'ultima gara mi viene qui il mal di stomaco con lei in trasmissione ma anche con piloti ricordo tambe anche non solo con i fenomeni tante volte siamo perché sono tutti ferraristi arrivati proprio a un filo dal vincere abbiamo perso due mondiali all'ultima gara o tre con Schumacher massa era mondiale ha tagliato il traguardo tutti abbracciarsi campioni del mondo arrivò dopo 16 secondi Hamilton che per un punto vinse il mondiale Alonso ha perso due mondiali all'ultima gara quindi io il mondiale ne ho persi tanti ne abbiamo anche vinti tanti però erano tutti in gara fino all'ultima adesso ormai sì poi lo sport è come l'Inter l'Inter ha fatto una bellissima partita contro il Manchester City alla finale però è arrivato in finale l'anno scorso questo è il bello dello sport però almeno arrivi in finale io spero che a Leclerc venga data una macchina per arrivare fino all'ultimo una macchina da vincere non vincere qualche gran premio da vincere il mondiale lo spero poi l'ultima gara spero che invece di Andermare lo vinca senta lei che è l'uomo della velocità ecco le faccio una domanda sulla lentezza lei è bolognese ecco è d'accordo con i limiti di velocità a 30 all'ora che è stato introdotto la settimana scorsa io non sono d'accordo in questi limiti al 30 all'ora dappertutto non ha senso secondo me la sensazione però quanti sono morti in città perché la macchina andava a 70 80 all'ora io sono assolutamente d'accordo nel mettere dei limiti nei posti giusti vicino alle scuole nei centri nei centri veri vorrei aumentare un po' più le corsie ciclabili diminuendo la velocità e soprattutto ci vuole non dare la sensazione che si mettano tutor o 30 per aumentare le casse del comune questo non va bene passiamo dalle auto e dai pedoni ai treni altro settore naturalmente dove lei oltre che competente è un campus in cui lavora lei ha detto che per il trasporto ferroviario si potrebbe considerare la separazione tra reti e servizi come è successo per la telefonia sì vede io insieme alla Ferrari la più grande soddisfazione professionale della mia vita è da un foglio bianco partire e decidere di fare un treno che faccia concorrenza ai treni di Stato perché io considero che la concorrenza è fondamentale vuol dire abbassare i prezzi vuol dire dare la possibilità ai cittadini di scegliere il miglior servizio il miglior treno 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 il nostro arrivo mi creda è stata una battaglia durissima avevamo tutti contro e ho visto che le ferrovie sono mastodontiche gestiscono loro i binari manutenzione non manutenzione gestiscono molte stazioni gestiscono il servizio cioè i treni frecciarossa i locali i treni per i pendolari anche lì auspicherei della concorrenza perché la concorrenza vuol dire migliorare il servizio per chi prende i treni anche abbassare i costi noi un momento io lo dico forte noi abbiamo fatto questa azienda senza un euro di denaro pubblico rischiando tutti i nostri soldi e dopo la televisione è stata la più grande privatizzazione mai fatta in Italia perché il monopolio delle ferrovie non so da quanti anni io credo anche molto nell'autobus credo nelle connessioni l'Italia è un paese i treni di alta velocità arrivano nelle grandi città ma non arrivano nei capologhi di provincia e allora è molto importante anche per il turismo perché qui dobbiamo anche pensare che il turismo non è solo il triangolo Roma-Venezia-Firenze che prendi degli autobus di qualità e raggiungi i centri i centri minori tornando al tema dei treni io credo che sia arrivato il momento di pensare seriamente alla divisione come avvenuto nella telefonia tra chi gestisce i binari e chi gestisce il servizio se no questi carrozzoni enormi creano solo confusione grossi 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 costi e non un grande servizio ai cittadini altro tema su cui lei diciamo è particolarmente competente come presidente di Teleton c'è stato il caso Ferragni che ha fatto crollare o comunque diminuire molto la fiducia degli italiani nella beneficenza cioè questo caso ha lasciato addosso questa sensazione ma siamo sicuri che i soldi vadano davvero dove noi quando compriamo facciamo una cosa pensiamo che vadano e con lei cosa ne pensa di questo effetto allora guardi mentre lei commentava appunto le decisioni di quella signora austriaca io dentro di me Marlene l'ereditiera che ha dato i soldi l'ereditiera io dentro di me pensavo guardi io l'onore e la soddisfazione di fare il presidente di Teleton e le assicuro che è una delle cose più belle io che sono stato e sono fortunato di fare qualcosa per chi non lo è come mi piace molto chi fa beneficenza senza dirlo questo è un altro tema su cui guarda la Ferragni si è molto dibattuta bisogna dirlo o non dirlo no io dico se tu fai beneficenza lo fai perché sai di avere di più di altri e vuoi dare qualche cosa di quello che hai a chi ne ha più bisogno senza fare annunci senza dirlo senza farsi pubblicità questo lo dico indipendentemente dal discorso Ferragni perché guardi che anche tante aziende che dicono che fanno pubblicità poi è anche un modo per avere detassazioni il che va benissimo però io preferisco chi fa beneficenza senza dirlo lo fa veramente oppure parlo di Teleton ma anche di altre associazioni che hanno ricercatori che lavorano indefessamente per riuscire ad arrivare alle terapie e metterle a disposizione di tante persone che ne hanno bisogno il caso Ferragni a me non piace dare giudizi prima che si arrivi a delle conclusioni certo è che eravamo andati tutti troppo lontani con questi influencer con queste persone che fanno della pubblicità il loro lavoro quotidiano credo che una calmata sia un fatto positivo questo mi sembra in generale in generale ma la legge come l'ha già battezzata legge Ferragni questa settimana in Parlamento che impone maggiore trasparenza era necessario secondo me va nella giusta direzione e evita evita tante cose non chiare secondo me va nella giusta direzione crearsi di nuove situazioni come questa ora avvocato come ogni domenica è arrivato il momento di scoprire quale immagine della settimana ha colpito nel buio della sua stanzetta il nostro Jacopo Veneziani buonasera buonasera Massimo buonasera avvocato sì questa settimana sono uscito dal buio della mia stanzetta ispirato non da un'immagine in realtà Massimo ma da un video il faccia a faccia alla camera tra Meloni e Schlein avete parlato di entrambe prima sulla sanità guardate le dirò collega Schlein che considero un'implicita attestazione di stima il fatto che oggi chiediate a noi di risolvere tutti i problemi che voi non avete risolto nei dieci anni in cui siete stati al governo presidente ma lei è andata al governo per risolvere i problemi o per continuare a fare opposizione scaricandoli sugli altri ma che piglio che verve io appena ho visto questo dibattito ho subito pensato ovviamente all'arte e alle immagini di donne che combattono per qualcosa o per qualcuno ma tra loro e la prima opera che mi è venuta in mente è stata un dipinto di inizio ottocento francese che si intitola proprio Le Femmes Sebat le donne litigano combattono un dipinto di Louis Leopold Boilly dove a sinistra vediamo un gruppo di donne che si accapigliano in maniera molto fisica anche violenta con i volti trasformati dall'ira e da dove in realtà Meloni e Schlein per fortuna non sono arrivate a questi livelli anche se qualche uomo alla camera si è successo ma in questo caso da dove arriva tutta questa ira non c'è una ragione ideologica in realtà semplicemente l'alcol perché Boilly amava rappresentare scene comuni nei locali notturni parigini e in questo caso ha voluto immortalare una rissa scoppiata tra gente diciamo alticcia che perde il controllo ma vorrei soffermarvi in particolare su un dettaglio perché guardate qui il realismo del pittore è tale che sembra quasi di immaginare di sentire quello che dicono i personaggi abbiamo la signora indicata dalla freccia bianca che sta proprio dicendo io adesso ti cavo gli occhi a te ci sarà stata anche qualche parolaccia forse chi lo sa la donna invece con la cuffia arancione indicata dalla freccia arancione sembra dirle ma no calma non vedi che le stai facendo male e poi c'è invece la signora un po' più spaventata indicata dalla freccia azzurra che dice un signor come direbbero a piacenza aiutaci tu non sa cosa fare e per fortuna c'è una soluzione qui perché qual è il personaggio secondo voi più terrorizzato qua nella scena non sono né gli uomini seduti a destra intorno al tavolo che osservano la scena forse oggi farebbero anche dei filmati al telefono chi lo sa neppure il bambino al centro della scena che addirittura sembra placare gli animi ma chi è c'è un dettaglio l'hai cerchiato è il cagnolino che si rifugia sotto la panca perché secondo me teme di prenderle vedendo questo dipinto mi viene una domanda un po' indiscreta per voi sai Massimo che sono sempre alla ricerca di scoop della domenica sera di la 7 e la domanda è ma voi vi siete mai trovati in mezzo a una rissa se potete confessarlo forse in formula 1 lì sicuro me ne ricordo è solo l'imbarazzo della scelta io me ne ricordo una me ne ricordo una spa tra Michael tra Schumacher e Coulthard che erano praticamente venuti quasi alle mani me ne ricordo un'altra tra Montezemolo e Moretti Montezemolo si occupava del treno Italo e Moretti di Specia Rossa erano guardi potrei annoiare ho questo ricordo di un'immagine o Maradona o Maradona lei che si tuffa durante un Gran Premio dentro una rissa lei quando era ancora diciamo inizio ah sì sì quando mi buttai sì sì al Gran Premio di Montecano il telecronista disse guarda stanno perché arrivarono i gendarmi e disse stanno malmenando Montezemolo ci fanno pagare una Coca Cola allora i lire mille lire Maradona diceva? no risse molte no risse molte no lei è divertente bravo ma grazie no diceva di Maradona sì Maradona è stata una cosa bella andavano negli spogliatoi e c'era lo stadio a Torino che faceva la solito corretto c'è la banana allora mi disse oh di a questi qui dei spettatori che la smettano era la Juve non il Toro però vedo un buon momento del Toro chiuso l'apparente la Juve e se no vado dentro gli faccio due gol che smettano di insultarmi va in campo dopo 20-25 minuti punizione per il Napoli punizione di Maradona gol Napoli 1-20 dico questo sa vedere anche il futuro perché lui ha detto vado in campo e vi faccio un gol se continuano a insultarmi allora dopo finito lui lo fece ma era Maradona direi che abbiamo l'imbarazzo della scelta in termini di rivalità che discutano su come fare soprattutto la Schlein che certe volte non capisco quando parla devo dire la verità faccio fatica a capire il concetto come fare insieme evitare che ci sia della gente che per farsi un'ecografia deve aspettare sei mesi ecco questo parlassero di infatti sembrava un dibattito Meloni-Schlein costruttivo secondo me ma per rimanere in tema invece appunto di rivalità un po' più pacate vi ho anche portato un dipinto dove due donne discutono in maniera invece elegante quadro di James Tissot che non c'entra con gli orologi massima non è pubblicità occulta intitolato Nella veranda sottotitolo Rivali perché abbiamo due donne due sorelle che in questo caso si contendono lo stesso uomo c'è anche la madre delle due giovani probabilmente la donna vestita di rosa che vediamo di spalle e che ha invitato il giovanotto affinché scelga una delle sue due figlie convocandolo nella veranda così da fare sfoggio di tutta la sua ricchezza perché qui siamo a metà ottocento e abbiamo diversi simboli del lusso ad esempio le piante esotiche che vediamo sullo sfondo oggi sono normali ma all'epoca erano delle vere rarità come la struttura in vetro e ferro costosissima da costruire oppure gli abiti sfarzosi di queste due giovani che sono riccamente vestite cioè il messaggio subliminale qui è chiunque tu scelga caro ragazzo la dote sarà importante non lo sappiamo chi sceglierà forse la sorella più intraprendente che secondo me è quella seduta perché guardate si è sfilata i guanti beve il tè e sta già iniziando a fare conversazione mentre sua sorella più timida rimane in piedi ha appena portato il tè quindi mostrandosi anche servizievole e osserva un po' più discretamente la scena aspettando che qualcun altro faccia la prima mossa ecco qui seconda domanda di gossip Massimo perché voi quando siete entrati in rivalità con qualcuno che tattica avete adottato più quella del rapace che coglie la preda di spalle all'improvviso o invece del leone che si acquatta dietro al cespuglio aspettando il momento opportuno per attaccare sono curioso in attesa di riscontri forgo distinti saluto ma grazie Jacopo se vuole rispondere a questa domanda se è più rapace o più io più diciamo ghiro mi addormento insomma sono esatto ho ancora un'ultima domanda per l'avvocato Montezemolo ma gliela faccio subito dopo il super spot fra qualche secondo state lì in altre parole l'ultima domanda per l'avvocato Montezemolo quando è stata l'ultima volta che ha fatto qualcosa per la prima volta all'ultima volta perché se no l'ultima volta più di recente l'ultima volta la settimana scorsa alle sei e mezza della mattina andare a pulire la stalla di delle mucche angus che fanno della carne eccezionale che io un po' allevo una bella stalla da pulire la mattina siccome chi se ne occupa aveva come tutti l'influenza io alle sei e mezza della mattina sono andato a pulire la stalla e mi ha dato una grande soddisfazione spero di rifarla e con questa bella immagine a Greste salutiamo l'avvocato Montezemolo diamo la linea alla rete e noi ci vediamo sabato prossimo alle 8.35 buona domenica sera a tutti